Quell'assurdo, imponente e perfino inutile bombardamento rimane uno degli episodi più controversi della Seconda Guerra Mondiale. Distrusse uno dei monasteri più antichi d'Italia, fondato nel Cinquecento da San Benedetto. 239 bombardieri, oltre 400 bombe sganciate sul monastero al culmine della battaglia di Cassino che per cinque mesi vede contrapposti le truppe alleate e i soldati della Wehrmacht. L'ordine di bombardare arrivò dal generale americano Clark, convinto che nel monastero si nascondessero le truppe tedesche. In realtà così non era, anzi paradossalmente furono proprio le rovine a diventare teatro ideale per i rifugio dei tedeschi nel proseguimento della battaglia. Rimane un dubbio ancora insoluto, è mai possibile che un ordine così importante che provocò la distruzione di un monastero così importante non sia mai stato in qualche modo condiviso o appoggiato dal Presidente Roosevelt o dal Primo Ministro Pitanico Churchill.